Buongiorno, salve, ciao ragazzi e ragazze, buongiorno a tutti quanti i nostri lettori di e benvenuti da Patrizia Berbattista, siamo un altro nostro home road attraverso la green economy, la condivisione, il pianeta che ha problemi, tutti i grandi che ci sono uniti per aiutare la terra, aiutare a noi a vivere sulla terra naturalmente. Che cosa vogliamo scoprire oggi? Oggi la giornata di novembre è piovuto, come ho detto diciamo che la parte del mondo italiano, cioè nel mondo della car sharing, ecco perché il nostro viaggio si parla di car sharing, perché andremo a scoprire, facciamo scoprire a voi, i nostri lettori, che non è solo diciamo prendere i mezzi, prendere la vostra auto, ma avere un'auto in condivisa, naturalmente automatica e tutto quello che è in... noi abbiamo trovato questa, una C3 del gruppo Stellantis, cinque porte, cinque diciamo automatica, benzina, e che cos'è? E sharing now, è una connubio quello che era Carduco con Dry now. Adesso a Roma e in varie parti d'Italia ci sono queste vetture a vostra di protezione, scopriremo viaggiando come si fa, naturalmente c'è sempre un'applicazione, all'interno c'è la chiave, c'è tutto quello che c'è da fare, qualche minuto e potreste partire alla scoperta della città e andare verso, nelle luoghi, spazi diciamo dettati dall'applicazione, c'è una mappa, potete parcheggiare nelle zone blu, naturalmente, un po' non si vede perché è piavuto e c'è un po' di fango, attenzione naturalmente, viene sanificata, viene controllata e viene anche riempita, diciamo, di... è un motore termico naturalmente, non a Roma non ci sono vetture elettriche, ma c'è sistema Smart 4-2, Smart Cabriolet 4-2, naturalmente Smart 4-4, Citroen, Fiat 500X e altre parti dell'Italia ci sarà la cittura di sicurezza e si inizia il nostro car scende su Roma, venite, venite con me, eccoci, andiamo, forza, vieni tu, mira, ah, la chiave dove sta? andiamo allora siamo in una Citroen, Citroen C3 della Sharing now, abbiamo acquisito questa car sharing su Roma, usciamo da un parcheggio, andiamo verso il centro, attenzione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!